Rapinato della collana d'oro e del portafoglio con circa 200 euro, picchiato selvaggiamente e poi derubato anche del permesso di soggiorno. Il tunisino regolare aveva trovato il coraggio di denunciare alla polizia i suoi aggressori, due connazionali di 30 e 26 anni, ma prima che gli agenti riuscissero ad arrestarli era stato di nuovo vittima dei due criminali. Gli avevano strappato un appuntamento con la scusa di restituirgli la refurtiva, in realtà volevano soltanto punirlo per aver fatto i loro nomi. Di nuovo calci, pugni e bottiglie di birra spaccata in testa, fino a quando finalmente gli uomini del commissariato di maestre sono riusciti a rintracciare e mettere sotto chiave i pericolosi rapinatori. E' importante anche in questi casi qua la partecipazione delle parti offese a cui noi teniamo particolarmente e che sono stati in grado di fornirci quegli elementi utili, precisi e indispensabili per poi dare la possibilità al pubblico ministero e aggiungere le sindaci preliminari di formulare il provvedimento. Fondamentale la denuncia delle vittime anche nel caso di una tentata rapina a due giovanissimi in via Cappuccina da parte di un ventenne albanese di un suo complice minorenne. Il primo aveva puntato il coltello in direzione della pancia di uno dei giovani, intimandogli di consegnare il cellulare. Il ragazzo si era dato alla fuga insieme all'amico, lanciandosi in una corsa a rotta di collo fino al bar più vicino, dove i due si erano rifugiati per chiamare le forze dell'ordine. Gli agenti del commissariato hanno identificato anche questo rapinatore, nel frattempo già arrestato dai loro colleghi di Padova, che gli avevano trovato addosso una ventina di dosi di eroina.